Inizia una nuova sinergia tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Confesercenti. Alla Camera di Commercio di Agrigento è stato presentato nell'ambito di una conferenza un nuovo piano, che prevede tramite un accordo tra la Monte dei Paschi e l'associazione di categoria rappresentante le imprese commerciali e turistiche lo stanziamento di fonti destinati ad attività alberghiere ed extralberghiere, al fine di mettere in risalto il turismo e risollevare l'economia siciliana. Monte dei Paschi e Confesercenti valorizzeranno la convenzione diretta COSVIG che Confesercenti ha e quindi l'opportunità per tutti gli imprenditori di attingere a dei fondi messi a disposizione dalla banca con il supporto della controgaranzia MCC, quindi di medio credito centrale. Inoltre tutte le società che sono associate a Confesercenti potranno lavorare insieme al Monte dei Paschi valorizzando un altro rapporto sinergico che riguarda Italia Confidi e Monte dei Paschi. Quindi la possibilità per le imprese siciliane di relazionarsi per il tramite di Confesercenti e Italia Confidi con il Monte dei Paschi agevolerà i progetti di crescita imprenditoriale, di investimento, di ristrutturazione, ma anche di una semplice gestione del core business aziendale e quindi la gestione corrente del credito dell'azienda. Un'importante nuova collaborazione tra Confesercenti e il Monte dei Paschi di Siena, quindi un primario istituto di credito che vuole investire, perché crede, nello sviluppo del turismo nella nostra provincia. Noi dobbiamo essere in prima fila, perché non dobbiamo dimenticare che il comparto del turismo rappresenta il 12,6% del PIL nazionale. Ha un'occupazione di 3 milioni e mezzo di lavoratori a livello nazionale, quindi è qualcosa di più di una potenzialità. Deve essere veramente un obiettivo per le imprese, soprattutto per le nuove imprese, per le imprese che sono già esistenti nel territorio, che devono investire soprattutto in formazione per fare tutto ciò.